ho saltato una settimana perché il lavoro da fare era molto e non c'erano grossi sviluppi da farvi vedere però adesso qualcosa di bello di nuovo e qualche piccolo problema da farvi vedere c'è quindi ne ho approfittato e oggi il 24 di marzo vedrete questo video il 25 di lunedì affrontiamo insieme alcune problematiche che possono insorgere roba di poco conto ovviamente e vi faccio vedere un po il lavoro fatto qua sulla sinistra già cominciato a vedere qualcosa vi dico perché ho fatto alcune scelte invece di altre dai ci vediamo dopo la sigla rieccoci sul canale bentornati a tutti sono orso ho saltato una settimana come vi dicevo perché aspettavo che i peperoni e i pomodori che avevo ripicchettato la settimana prima quell'ultimo video che avete visto fossero nelle condizioni e le dimensioni giuste per poterle portare in serra e così ho fatto le portate questa mattina sono un po titubante perché anche se siamo a fine marzo la temperatura notturna intorno ai 13 gradi quindi proprio bene bene non gli fa però lo spazio mio è terminato completamente ormai sono già sui davanzali delle finestre qui a casa e non va bene anche se il termosifono è spento ovviamente ma non va bene non è una cosa che mi piace allora parliamo un attimino di ciò che ho fatto stamattina stamattina veramente ho fatto un sacco di lavoro tutte le melanzane che avevo qui nel platò con l'humus il lombrico e con l'aurum vi ricordo che era il terriccio quello con già all'interno dell'humus il lombrico le ho spostate tutte erano tre file le ho ripicchettate tutte qui allora questo è un azzardo che mi sono preso perché se non c'è la seconda coppia di foglie qui non ce l'ha praticamente nessuna di queste piantine spostarle è veramente un rischio però il discorso che era la base di questa mia scelta è che ho spento completamente il riscaldamento del asilo in questa stanza adesso 19 gradi quindi più che sufficiente per far andare avanti la crescita le piante ho lasciato soltanto il tappetino riscaldante che qua sotto voi non lo vedete a 24 gradi quindi ho preferito spostare tutto ciò che aveva bisogno ancora di temperatura come ad esempio le melanzane le ho ripicchettate singolarmente dove non ci sono riuscito ho lasciato gruppi di tre poi lo farò più avanti ho dato un abbondante dose di humus il lombrico ho messo il terriccio buono della ter floor quello che ho fatto vedere l'altra volta è substrato di coltivazione quindi ho preferito fare così 24 gradi se tocco il terriccio alla sua bella temperatura ecco qui si sentono tutti i 24 gradi quindi loro adesso con un po di fortuna avranno tempo di crescere vedremo i risultati la prossima settimana vedremo se c'è qualche cosa altrimenti pazienza avrò buttato via un po di melanzane insomma qualcosa ciò vedete alcune già le ho portate in serra qualcuna l'ho lasciata qui è una cosa che non vi consiglio di fare perché appunto le piantine sono troppo piccole però io ho fatto questa scelta ho fatto un testo un esperimento mi sposto brevemente i peperoni che avevo trapiantato la scorsa settimana si sono ripresi praticamente tutti guardate che belli che sono questi sono rimasti sul tappetino riscaldante fino a questa mattina quindi avevano una temperatura anche loro di 24 gradi ora li terrò qui in stanza a 18 19 gradi rallenteranno un po però continueranno a crescere ho messo parecchio humus sull'ombricco quindi tenderanno ad andare avanti con la crescita poi piano piano li ripicchetterò di nuovo nei vasetti singoli singolarmente quindi non è una soluzione definitiva assolutamente questa oltre all'humus ho messo un po di concime un po di solabiol ne ho messo pochissimo e questo mi porta a parlarvi del piccolo problema che ho trovato io che ho riscontrato che probabilmente riscontrerete anche voi anzi un lettore già me l'aveva detto guardate qua mi sposto questo plateau vedete avevo messo solabiol la settimana scorsa poi con le irrigazioni vedete si forma un po di muffa superficialmente e solo dove c'è il solabiolo quindi sappiate che se usate questo concime per quanto è eccezionale vi può fare un po di muffa non succede assolutamente nulla tant'è vero che tutte le piantine che ho trapiantato ecco ad esempio guardate quelle che ho fatto questa mattina mi alzo un po vi faccio vedere vedete poi la muffa sparisce completamente perché scendiamo un po smuoviamo il terreno non succede assolutamente nulla è solo un discorso estetico non puzza non fa odore io ce li ho in casa quindi vi posso assicurare che problemi non ce ne sono avevo degli alveoli vuoti per non lasciarli vuoti che a me non piace tenere gli spazi vuoti ho messo dei fagiolini sono venendo su un pochino troppo velocemente ma è stata una scelta che ho fatto per fare un testo un esperimento volevo vedere come rispondevano con questo tipo di terriccio torno qui alle erbe aromatiche allora anche qui la settimana scorsa anzi dieci giorni fa avevo messo un po di sola bio mi avvicino vi faccio vedere una cosa se notate non c'è traccia di mussa perché lì ho messo meno acqua è tutta una questione di irrigazione è tutto lì qui acqua l'ho messa proprio quello contagocce e non ho avuto nessun tipo di problema però guardate la netto come è cresciuto mi sta dando soddisfazioni speriamo poi che regga in fase di trapianto la in fondo ho messo tutte le piantine di pomodoro che ho trapiantato questa mattina altrettante le ho spostate già in serra erano già più grandi di queste quasi il doppio sono state le prime le avevo ripicchettate nell'ultimo video che avete visto e adesso si erano completamente riprese e le ho messe in serra e ho fatto opposto a queste qui queste adesso fra una settimana se va tutto bene che vedo che si sono riprese le sposterò in serra sempre tornando su questo plateau o i pomodori cominciano a soffrire devo finire di trapiantarli non mi piace come sta venendo su perché sono un pochino troppo vicini cominciano a soffrire la dimensione del dell'alveolo vi faccio vedere una cosa prendo una vedete cominciano a spiralizzare le radici e non mi piace un'altra cosa che ho notato questo plateau è molto profondo moltissimo sotto arriva pochissima acqua io non ne metto molta è perché avete visto ci sono anche problemi di muffa quindi sarebbe l'ideale se fosse così allora a questo punto vedete che comincia non può soffrire queste piantine finisco il video e poi li trapianterò quindi anche queste dovrò trovare una sistemazione nei prossimi giorni sul plateau del test dell'humus e lombrico ho lasciato le melanzane perché ho visto che sono belle quindi le faccio crescere ancora un attimino anche perché non ho più posto non ho più vasetti ne ho pochissimi e finirò poi di trapiantare quelle lì quelli in realtà sono i peperoni vedete ritorno sul discorso della differenza tra questo che è tutto uno sull'ombrico e questo invece che laurum a metà metà a room e terriccio la semina la differenza è palese quindi dopo precedenza queste che vedo che stentano un po crescere cioè che ci mettono molto più tempo rispetto a queste quindi darò loro un'attenzione un po diversa nel resto mi sposto vi faccio vedere ancora qualcosa i cavoli di bruxelles hanno preso via eccoli qua ce ne sono 45 non sono tantissimi qualche pomodoro con le foglie gialle anche lista cominciando a soffrire quindi a un certo punto bisogna poi trapiantarli è inutile che ci stiamo lì a perdere ancora troppo tempo tenete conto che queste sono dall'inizio di febbraio siamo a fine marzo due mesi un alveolo piccolo così bisogna anche capire un po lo stato delle piantine vedete ora ho degli alveoli vuoti ho rimesso il terriccio da semina della terflor è del lungo sull'ombrico 15 grammi per ogni alveolo e adesso seminerò i cetrioli purtroppo quando ho fatto la spesa al mondo dei semi non ci ho proprio pensato ai cetrioli e mi è dispiaciuto perché me ne sono accorto proprio l'altro giorno non volevo rifare l'ordine per una bustina e quindi l'ho acquistato l'inchwire è un ottima marca anche questa la sgaravatti lavora bene però avrei preferito quello del mondo dei semi e la prossima volta dovrò fare un elenco un pochino più accurato ho spostato tutte le lattughe nell'orto proprio questa mattina ho lasciato soltanto quelle lì in fondo ma nel giro di due tre giorni anche quelle spariranno al faro posto ad altre coltivazioni ora sposto tutto vi faccio vedere soltanto l'ultimo prodotto che ho fatto nella settimana che non ci siamo visti l'ultimo prodotto che vi mostra questo ho seminato tutto il 14 di marzo quindi è stato il periodo che non ci siamo visti a malapena quindi c'era poco da farvi vedere mais zucchine le prime di quest'anno ho messo ancora del melone melone retato e qui ho messo le carote anche le carote per sedisco farle così non è il modo più corretto andrebbero seminate in pieno campo ma tenete conto che io facendo la coltivazione direttamente nel compost il compost molto grossolano come pezzatura e quindi i semi praticamente li perderei e dovrei fare uno strato di terriccio un pochino più fine allora sì fatto sta che comunque ho voluto provare e vedere un po come funziona ovviamente tra pianterò direttamente le piantine intere cioè gli alveoli interi non vi consiglio di farlo perché è un lavoro doppio e non è detto che venga sto facendo un esperimento un test invece le zucchine stanno venendo fin troppo bene sono in anticipo e il mais è solo la prima mandata ne farò ancora perché mi serve anche poi da mettere come bordura come copertura un po' per il vento un po' per il raggi del sole intorno all'orto vediamo se riesco a fare questo ragionamento anche quest'anno bene è tutto per questo video la prossima settimana vi farò vedere una parte della serra la sto finendo adesso non c'è molto da vedere abbastanza bruttina vista così non mi piace non è completa quindi la settimana prossima dovrei riuscire a fare un video soltanto sulla sera quindi se vi interessa magari seguitemi cliccate sulla campanella così vi arrivano le notifiche dei video che riesco a pubblicare durante la settimana grazie per essere stati con me anche oggi lasciate un like iscrivetevi vi ricordo vi lascio sempre qui in descrizione il codice sconto per il mondo dei semi e codice sconto per l'humus e lombrico non sono codici affiliati non ci guadagno nulla ma voi potete risparmiare un 10 per cento che di questi tempi non è assolutamente male vi auguro una buona giornata